Il secondo cavaliere. Un altro cavallo uscì, rosso acceso, e a colui che vi sedeva gli fu concesso di togliere la pace dalla terra e di uccidersi l'un l'altro e gli fu data una grande spada. Apocalisse capitolo 6 verso 4. Il secondo cavaliere prende la pace dalla terra. Se vogliamo comprendere correttamente l'azione e il suo compimento, dobbiamo assicurarci di capire correttamente cosa significa la pace. Guardando le definizioni di pace, come viene utilizzato nel nostro contesto? Lo stato prevalente durante l'assenza di guerra o minaccia di guerra. Relazioni armoniose, assenza di dispute e conflitti. L'assenza di pensieri o emozioni inquietanti, paura, senso di colpa, gelosia, frustrazione, disperazione, sfiducia, ecc. Mentre non si riflette in queste definizioni, la pace è più che l'assenza di condizioni avverse. La pace non è solo la mancanza di conflitti esterni e di ostilità, ma anche la presenza di un senso interiore di benessere, sicurezza e integrità. La pace è anche la presenza di integrità, nell'essere e nelle relazioni. Vediamo la differenza quando guardiamo a come la pace viene utilizzata nel contesto biblico. La tessitura insieme di Dio, gli esseri umani e tutta la creazione nella giustizia, nella realizzazione e nella gioia, è ciò che i profeti ebraici chiamano shalom. La chiamiamo pace, ma significa molto più della semplice pace della mente o del cessate il fuoco tra i nemici. Nella Bibbia, shalom significa universale fiorente, integrità e delizia, un ricco stato di cose in cui i bisogni naturali sono soddisfatti e doni naturali fruttuosamente impiegati, uno stato di cose che ispira meraviglia gioiosa come il suo creatore e salvatore, apre le porte e accoglie le creature in cui si diletta. Sì, la gente si è uccisa, da quando Caino ha ucciso Abele. Anche Satana è responsabile di questo. Il ladro viene solo che potrebbe rubare e potrebbe uccidere e potrebbe distruggere. Giovanni capitolo 10 verso 10 Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Giovanni capitolo 8 verso 44 Durante la cena, quando il diavolo l'aveva già messo nel cuore di Giuda Iscariota, il figlio di Simone, per tradirlo. Giovanni capitolo 13 verso 2 Il colore simbolico rosso ci aiuta a identificare meglio il cavaliere. Il secondo cavaliere cavalca un cavallo rosso. Il rosso è usato nella scrittura per rappresentare il peccato. Venite ora e ragioniamo insieme, dice il Signore. Anche se i vostri peccati sono scarlatti, saranno bianchi come la neve. Se saranno rossi come il cremisi, saranno come la lana. Isaia capitolo 1 verso 18 Il rosso è anche il colore di Satana raffigurato come un drago a sette teste in Apocalisse capitolo 12. Un altro segno apparve in cielo. Ecco un grande drago rosso con sette teste e dieci corna e sulle sue teste sette diademi. Ora la guerra sorse in cielo, Michele e i suoi angeli che combattono contro il drago. Il drago e i suoi angeli combatterono, ma fu sconfitto e non c'era più posto per loro in cielo. Il grande drago fu abbattuto, quell'antico serpente che si chiama Diavolo e Satana, l'ingannatore di tutto il mondo. Apocalisse capitolo 12 versi 3 e 7 a 9 La spada simbolica ci aiuta a identificare il secondo cavaliere. Gesù usa il termine spada e spiega il suo significato. È l'opposto della pace. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Perché sono venuto a mettere l'uomo contro suo padre, la figlia contro sua madre e la nuora contro sua suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Matteo capitolo 10 versi 34 a 36 Al secondo cavaliere viene data una grande spada che causa grande divisione e conflitto nella terra. Il secondo cavaliere è Satana. Nessuno ha preso la pace dalla terra, ha causato la gente a uccidersi a vicenda e ha causato conflitti nella terra come Satana ha.